Alle mie spalle si vedono le impronte della porta della Casa dei Pittori al Lavoro che è rimasta chiusa durante l'eruzione, fatalmente perché fuori abbiamo trovato due vittime, due persone, una donna e un uomo di età avanzata, che hanno cercato evidentemente di entrare e sono morte, le due, nei lapilli, queste pietre vulcaniche calde che dovevano dal cielo qui davanti cercando disperatamente di entrare.